Possiamo farle una domanda dopo gli attentati di questa mattina a Bruxelles? Io non so niente, non lo sto sentendo da voi adesso, mi resto veramente stupita, ancora attentati. Ha paura dopo gli attentati di Parigi e poi di Bruxelles? Un po' sì. Mi muovo un po' guardandomi intorno, ma fino a un certo punto, perché se no non si vive più, non si può vivere così. Tutti i giorni abbiamo paura, è normale, però si va avanti. C'è paura per andare al lamento, c'è paura di fare ogni cosa. No, non siamo sicuri. C'è ragione il Papa, stiamo con la terza guerra mondiale a pezzi. Si sente sicura qui in piazza San Pietro? Ah, mica tanto, non volevo neanche venire io. Qui a Termini si sente sicura? Assolutamente no, io non mi sento sicura da nessuna parte, quindi bisogna solo sperare che ci vada bene. Non bastano i controlli, le cose qui. Prima o poi succederà qualcosa di brutto. Elisa Cressi Guarda i... Grazie.